La ricerca storica sui epimenio di Gesù, partigiano e margine delle fosse ardeatine, autore del libro Un uomo, un universo, storia di epimenio di vittima delle fosse ardeatine. Una ricerca che ha ripercorso attraverso testimonianze, documenti, la vita di epimenio di Gesù, la famiglia, gli amori e amicizie, l'adesione al capito d'azione e le vicende che lo confussero alla tragica morte alle fosse ardeatine. Grazie. Eugenia Nicolò, sia autrice di un patriarcato, fondamenta, attivista femminista e del movimento LGV.ia+. Ha portato il svoltegno nel campo del giornalismo e della letteratura, al chiamo della lotta di diverse associazioni e organizzazioni che promuovono la parità di genere e la parità di gruppi, per la divulgazione attraverso i social media, pubblicazioni e festival dedicate alla comunicazione, all'inclusione e all'empowerment femminile e nella segreteria nazionale di Gainette e collabora con le giornaliste unite, libere e autonome, non una di meno e con la rete donne trasferminista di Gainette e con la rete donne trasferminista di Gainette. Non c'è. Non c'è. Non c'è. La facciamo dopo. La facciamo dopo. Allora consegniamo. Ah, è il prezzo, vuoi dire qualcosa? Marino, io conoscerò il professor Emilio Damato, il nome, perché circolare le scuole, e nel 2019 dovevano fare una cosa a Cina Castellana sulle letti razionali, e il professor Francocci, dirigente dell'Istituto Midossi, ci ha detto che non c'era possibilità di farlo a Cina Castellana, e ci ha chiesto di farlo a Vignanello, e doveva venire il regista del film, quando abbiamo scoperto di non essere più italiano, 1938, e il regista non poteva venire, quindi Marino si è pressato a sostenere, e quindi quel giorno si è andato a Vignanello e abbiamo conosciuto il professor Emilio Damato, perché erano qui, e quindi insieme abbiamo proiettato questo documentario e commentavano solo, ma il professor Emilio Damato, ancora prima di prendere la parola, lui ci ha raccontato cosa erano le leggi nazionali, e quindi ci siamo scoperti lì, a Milici già da prima, conoscenti, compagni e antifascisti da noi. Grazie. Grazie.